Ha mandato qualcuno? Ha mandato qualcuno? Ma non avevano le chiavi? Adesso siamo qua a via Malta, questo qua è un fabbricato che tocca anche l'ospedale di Biella. Guardate la via Malta che è stato e guardate qua l'angolo che butta questa porcheria che siamo a Biella. E guardate qua, dietro, questa qua è la villa di fondo Edo Tempia, è una cosa fuori dal normale, io secondo me nessuno passa qua per controllare, per vedere, né qua del Comune né qua dell'Asia, lo so, o viviamo mezzo la porcheria. Ci sono anche gente del fondo Edo Tempia che reclamano anche, vedete voi, adesso io a queste qua, mi intervengo io, segnalo io, vediamo. Vedete qualcosa? No? No?